Terza giornata di campionato nel girone B dei giovanissimi regionali Ender 14 e prima prova di fuga per la Virtus Sanxanum che punta il bottino pieno nella trasferta vastese con il Real Atena San Salvo. I numeri parlano chiaro e fanno intendere che i giochi sono praticamente fatti con i favori del pronostico nettamente favorevoli ai ragazzi di Mister Ulacco a punteggio pieno dopo le prime due gare stagionali e primi in classifica. I ragazzi di Mister Sappracone entrati in scena nello scorso turno di campionato dopo il riposo da calendario osservato all'esordio sono reduci da una pesante sconfitta in doppia cifra patita nella trasferta di Fossa Cesia ma dalla loro hanno tante attenuanti a cominciare dall'aspetto anagrafico. Tranne il portiere infatti classe 2011 come tutti i componenti della rosa rossonera tutti gli altri sono nati nel 2012 e un anno di differenza alla lunga e spesso decisivo in queste categorie giovanili. Lo specchio fedele di tale asserzione è rappresentato dalla storia della gara in oggetto che vi racconteremo attraverso i riflessi filmati con un buon avvio della squadra di casa e un progressivo calo fisico nel proseguo della sfida. La Virtus insidia inizialmente la porta di Pisarri decisivo per sventare il destro dal limite di Moriconi. Timida risposta biancazzurra due minuti dopo col piazzato dal limite di Scafetta che si impenna sopra i legni di Carafa. Pronta replica virtussina con il destro di Di Fiore all'altezza del vertice d'area disinnescato in tuffo da Pisarri che si rifugia in corner. Sugli sviluppi del conseguente tiro dalla bandierina dello stesso Di Fiore, Moriconi manca di pochissimo il tapinaereo da due passi. Le offensive rosso-nere si intensificano ma l'estremo San Salvese riesce almeno nell'immediato a limitare i danni sulle iniziative in area di Di Florio e Moriconi. Pisarri è costretto ad alzare bandiera bianca al minuto 13 quando Di Fiore rompe gli equilibri e porta i suoi a condurre con un piatto di prima intenzione che sfrutta l'appoggio al limite di Zela e va a scavalcare il pur bravo estremo rivale. I padroni di casa provano a reagire e vanno per due volte ad insidiare la porta di Carafa dapprima con il piazzato dalla distanza di Acquarola e subito dopo con la girata in area di Grimaldi smorzata da Riccitelli. Sarà in definitiva l'ultima presenza significativa della truppa San Salvese nei dintorni della porta rosso-nera con Carafa che nel prosiego sarà destinato ad un ruolo da spettatore. I suoi compagni saranno infatti costantemente presenti dalle parti del suo omologo Pisarri decisivo a respingere le conclusioni dalla media distanza di Di Florio e di Zela. Passano pochi secondi e arriva il raddoppio rosso-nero firmato stavolta da Di Enno che vince un primo rimpallo a ridosso del limite d'area e fa partire un velenoso diagonale dalla sinistra che sorprende Pisarri sul primo palo. L'appetito viene mangiando come soldirsi e due minuti dopo il punteggio comincia a dilatarsi con il Tris Virtussino certificato da Dirado che realizza dopo una serie di giocate che mettono fuori causa diversi avversari. I volenterosi padroni di casa accusano il colpo e lasciano troppi spazi alla squadra lancianese che nel finale di tempo imperverse e indisturbate in area avversaria. Al ventiseiesimo Pisarri disinnesca il gran fendente di Zela. Il duello tra i due si rinnova due minuti dopo con esiti ancora favorevoli al numero uno del San Salvo che conferma la buona prestazione individuale anche al ventinomesimo quando intercette il tentativo dalla sinistra di Dirado. Al trentaduesimo quando si distende alla sua destra e nega il poker a Zela e nel proseguo dell'azione va a limitare i danni anche sulla conclusione di Di Fiore. La frazione va in archivio con il sinistro di Di Enno favorito da un rimpallo favorevole ma la conclusione è facile e preda di Pisarri, vero protagonista della prima frazione. Alla ripresa dei giochi l'estremo del Real Atena sarà ancora impegnato copiosamente dal reparto d'assalto rosso-nero subito pungente con l'accoppiata di Florio Zela. Pisarri intercetta nel primo caso e poi viene graziato dalla ribattuta del numero 30 che si alza sul fondo. Va molto meglio a Di Fiore che al terzo firma la quaterna Virtussina e il suo bis personale con un destro di prima intenzione che spedisce la sfera nell'angolino alla sinistra di Pisarri. Quest'ultimo non riesce ad essere sempre decisivo ma non potrebbe essere diversamente vista l'enorme quantità di pericoli ai quali viene sottoposto. Uno di questi si manifesta pochi istanti dopo ed è coincidente con la rete numero 5, prima pomeridiana per Zela, che ottiene il giusto sfogo dopo diversi tentativi andate a vuoto. Stavolta il numero 30 Virtussino piega Pisarri con un sinistro di precisione che finalizza una buona manovra corale dei ragazzi di mister Ulacco. I rosso-neri sono in fiducia e alimentano nuove iniziative in zona d'attacco. All'ottavo dell'Aurenti si appoggia per Di Fiore che dal limite fa partire una conclusione che indirizza la sfera ad infrangersi sulla parte superiore della trasversale. Il punteggio assume dimensioni tennistiche nelle fasi successive e Di Rado il protagonista in questo frangente con due reti in rapida successione che fanno prendere definitivamente il largo alla sua squadra. La sesta rete arriva da distanza ravvicinata sfruttando la doppia rispinta di Pisarri e il successivo salvataggio sulla linea di Bolognese impegnato dalla precedente ribattuta di Zela. Di Rado torna a segnare pochi secondi dopo, stavolta con un destro dal limite che spedisce la sfera ad infrangersi sulla parte inferiore della trasversale e a depositarsi infine oltre la linea di porta. Il tiro al bersaglio prosegue incessantemente con Sciascia che prova ad entrare nel ricco tabellone marcatori. Il numero 6 rosso-nero fallisce al primo tentativo ma si riscatta qualche istante dopo griffando l'ottavo sigillo virtussino con una beffarda palombella da posizione defilata che va a scavalcare il malcapitato portiere del Real. Sfortunato Pisarri al sedicesimo piegato da una fortuita deviazione del compagno di squadra Joelle De Julis sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina di Di Fiore. Il punteggio va rapidamente in doppia cifra al diciannovesimo con il decimo sigillo pomeridiano della squadra rossonera che festeggia stavolta con Zela il quale raccoglie la pennellata dalla sinistra di Di Fiore e appoggia in rete con un tocco di prima intenzione dalla media distanza. Il numero 30 rosso-nero non è sazio e ci riprova anche al ventesimo ma stavolta la ciambella non riesce col buco. Al ventiseiesimo arriva un nuovo legno per la squadra rossonera centrato stavolta da Sciascia. Il tiro al bersaglio prosegue con Di Fiore che spedisce a fil di palo, il neo entrato Sciorilli che ci prova in mischia e spedisce alla destra della porta bianca azzurra, De Laurentiis che cerca l'angolino ma trova Pisarri ad opporsi efficacemente e Di Fiore che riceve da Di Rado e si trova a calciare in porta una sorta di rigore in movimento. Grande intervento di Pisarri che salva per qualche secondo ma non può evitare il nuovo dispiacere sulla ribattuta seguente di Di Rado, abile a trovare la giocata ideale per scavalcarlo inesorabilmente e a festeggiare la quaterna personale. In una cronaca a debordante colorazione rosso-nera la seconda frazione offre un piccolo spiraglio di luce ai ragazzi di casa che si affacciano dalle parti del neo entrato Lorenzo De Julis, il quale riesce ad avere il suo momento di gloria opponendosi efficacemente all'irruzione in area di Manuel Scafetta. Pisarri è ancora protagonista in positivo nonostante le reti al passivo ma riesce ad essere decisivo sugli affondi di Di Rado e Di Fiore. Nella stessa azione il direttore di gara ravvisa un precedente fallo di mano di Lattanzio e indica il dischetto. Alla conclusione dagli 11 metri va Di Fiore che fisse il punteggio definitivo sul 12-0 per la Virtus Anxanum, pericolosa anche nel finale con Sciascia. Prosegue la marcia della Virtus a punteggio pieno dopo tre giornate di campionato in coabitazione con il Francavilla ma attesa da una difficile sfida casalinga con l'Union Fossa Cesia nella prossima giornata di campionato in programma sul terreno amico del Dimeco. Iniziamo le interviste post partita con Nicolò Colanero e Antonio Di Rado tra i protagonisti di questa bella vittoria soprattutto nel secondo tempo perché nel primo la squadra avversaria vi ha dato un po' di filo da torcere. Un vostro commento sulla gara e sulla prestazione della vostra squadra? Sì, il primo tempo abbiamo giocato un po' male, infatti giocavamo non per la squadra ma da soli. Il secondo tempo ci siamo ripresi e infatti si è visto il cambiamento della partita. Il primo tempo avevo giocato male, loro pensavano molto e infatti hanno giocato meglio, però ci siamo ripresi, il secondo tempo abbiamo dominato e abbiamo vinto con molti gol di scarto. Tra l'altro hai segnato un bel po' di gol anche tu di Rado. Sì, sì, sono contento di aver segnato tutti questi gol. Come sta andando questo inizio di campionato? Tre partite e tre vittorie? Sì, stiamo andando molto bene, speriamo di continuare così e di mantenere la testa della classifica. Migliore in campo secondo voi? Nicolò Ciasci. Nicolò Colanero. E chiudiamo con Gioele Di Enno, un altro commento su questa bella prestazione della tua squadra. Tanti gol, soprattutto nel secondo tempo. Cosa è cambiato secondo te rispetto al primo tempo? È stata una bella partita, soprattutto nel secondo tempo, siamo impegnati molto di più, abbiamo cominciato a giocare di squadra e penso che dobbiamo continuare così anche le prossime partite. Come ti trovi con questi compagni? Presumo che tu sia come tanti altri da diversi anni in questa formazione. Io sono integrato molto bene, sono uno nuovo ma come anche molti altri. Ho dei bravi compagni, soprattutto molto bravi e mi hanno dato una mano anche per integrarmi. Oggi chi ti è piaciuto dei tuoi compagni? Antonio Di Rado, ha fatto una bellissima prestazione con quattro gol. Un giudizio sulla squadra avversaria che è una squadra molto più giovane di voi e forse questo si è fatto sentire alla lunga. Penso che nonostante siano molto più piccoli di noi, hanno giocato una buona partita e anche se sono più giovani sono molto bravi anche a muovere la palla e a giocare nello stretto. Ascoltiamo anche l'altra campana, il mister della squadra di casa, Danilo Sappracone. Abbiamo visto una buona prova di questi ragazzi che, lo ricordiamo ed è molto importante sottolinearlo, hanno giocato con un anno in meno rispetto agli avversari lancianesi e questo si è fatto sentire alla lunga. Altrimenti il primo tempo è stato positivo per quel che ho potuto vedere io. Buonasera, sono un bel gruppo di ragazzi molto validi che cerchiamo di valorizzare nel migliore dei modi, anche se quest'anno con il campionato sotto età è tutto molto più difficile per loro. Per cercare di tirar fuori il meglio da loro abbiamo deciso quest'anno di intraprendere questa strada e pare che loro stiano veramente rispondendo al meglio con l'impegno costante con gli allenamenti e poi chiaramente non guardiamo il risultato perché se no sembra bugiardo. Parlavo un po' con alcuni genitori, questa squadra si chiama nominalmente Real Atena San Salvo ma alla fin fine, all'atto pratico, è una squadra completamente vastese. Sì, è una squadra completamente vastese, è un nuovo progetto che va di pari passo con quella che è anche la Virtus Vasto, in questo che è una cittadina meravigliosa che ha sempre sfornato talenti calcistici e non. Quindi siamo pronti ad accogliere tutti i talenti vastesi e non. I ragazzi probabilmente vanno sollecitati soprattutto dal punto di vista psicologico perché devono comprendere che queste sconfitte sono soprattutto legate all'aspetto anagrafico. guarda sì, si lavora molto, noi lavoriamo molto su quello proprio che è l'aspetto psicologico mentale dei ragazzi. Sì, hanno 12 anni però cercare di tirare da loro il meglio caratteriale già da quell'età è fondamentale. Infatti, io ti parlo dei miei, sono veramente non contento di più perché si lotta, lottano sempre, cercano di esprimere nel loro piccolo, nel loro mondo calcio, quindi di giocare a calcio, di non mollare mai e di questo veramente ne siamo veramente fieri. Due battute invece sulla Virtus San Sanum. No, squadra innanzitutto allenata benissimo, da un bellissimo staff, i ragazzi chiaramente guarda, sono stato anche a Fossacesa la settimana scorsa, tutte con pagini con innanzitutto c'è da premiare la mentalità proprio della struttura societaria di queste società perché è molto fair play, io ho dei ragazzi sotto età, rispettati in campo, insomma veramente un applauso a tutti loro.